Come anticipato alla stampa nazionale e agli addetti ai lavori qualche giorno fa, il presidente di Lega 2, Marco Bonamico, ha ufficializzato qualche ora fa a Bologna il calendario del nuovo campionato di Lega 2 per la stagione sportiva 2011-2012. La regular season prenderà la denominazione di Lega 2 Eurobet 2011-2012 grazie anche all'accordo siglato ieri con Eurobet che diventa quindi il title sponsor ufficiale del campionato. La formula varata prevede come noto la presenza di 16 squadre che a partire dal 2 ottobre 2011, data della prima giornata di campionato, daranno vita ad un nuovo avvincente assalto alla promozione della massima serie. Le uniche rappresentanti pugliesi Enel Basket Brindisi ed Assi Basket Ostuni saranno due splendide protagoniste che per quattro giornate condivideranno anche il parche di gioco del palazzetto dello sport Elio Pentassulia di Brindisi in attesa che vengano terminati lavori di ampliamento ed omologazione al campionato di appartenenza del palazzetto ostunese. A fare gli onori di casa sarà Brindisi che nella prima giornata giocherà sul parche amico contro l'Age Timola, mentre Ostuni dovrà vedersela in trasferta contro Pistoia. Derby pugliese tra Ostuni e Brindisi già nella seconda giornata con i gialloblu a risultare i padroni di casa. Nella terza giornata Brindisi in casa contro Pistoia ed Ostuni in trasferta contro Forlì. Nella quarta giornata Brindisi ritrova la vecchia conoscenza vero in trasferta, mentre l'assi basket ospita il Piacenza. Quinta giornata in casa per l'Enel Basket contro Barcellona, mentre Ostuni giocherà a Dimola. Per la sesta giornata la new basket Brindisi ospita Iesi, mentre i gialloblu di coach Marcelletti saranno a Bologna. Per la settima giornata assi basket Ostuni-Primaveroli e Sant'Antimo contro Brindisi. Nell'ottava Brindisi-Reggio Emilia e Barcellona-Ostuni. Nella nona giornata Brindisi giocherà a Piacenza, mentre Ostuni riceverà Scafati. Si proseguirà nella decima giornata con Enel Brindisi centrale del Latte-Brescia e Dumana-Venezia assi basket Ostuni e nell'undicesima giornata con Verona-New Basket ed Ostuni-Reggio Emilia. Nelle ultime quattro giornate Brindisi giocherà rispettivamente contro Forlì in trasferta, Venezia in casa, Bologna fuori casa, chiudendo con Scafati al Palapentassuglia, mentre Ostuni sarà impegnato con Verona in casa, Sant'Antimo in trasferta, Iesi sul Parchiamico e Brescia nell'ultima giornata fuori casa. Il girone di ritorno sarà ovviamente a campi invertiti. La stagione regolare si concluderà sabato 5 maggio 2012. L'accordo tra Eurobet e Lega 2 include i play-off che inizieranno il 9 maggio 2012 e termineranno al più tardi con le finali il 16 giugno 2012. Nel periodo natalizio si giocherà il 22 dicembre, poi pausa e ritorno in campo il 5 gennaio. La Final Four avrà luogo sabato 3 e domenica 4 marzo 2012. Le qualificazioni si svolgeranno il 21 e 25 settembre 2011, gara 1 e gara 2 ottavi, l'1 novembre e l'8 dicembre 2011, gara 1 e gara 2 dei quarti.